Mi accompagna, ha detto che è una cosa, ho letto attivo, lo rileggo un po', e alla fine c'è una cosa che c'è la domanda di una domanda che si faceva a loro e a loro, di cosa fareste, se il tuo figlio dovesse un giorno di mettere un reato con i tiponi. A prescina dell'attivazione, poi, non la fa come una pranzia. Per dire, abbiamo iniziato a lavorare giù, abbiamo fatto una prima trattamento, scelto proprio del libro integrato, dove è la scuola, lì ci abbiamo lanciato, le cose che ci interessano, abbiamo andato a corte, abbiamo pensato a fare, liberamente, per rispiarla, per rispettare la scena di corte. Rispetto al libro, ecco, c'è stata, non c'è nulla cosa, abbiamo spilato, abbiamo detto che l'abbiamo spilato, la parte che era tutto un interno, la scena, anche se poi eravamo pari verso, quindi, quando non pensi che la scena di corte è stato tutto un interno, no, è iniziato a fare un loro compagno ancora, quindi, diciamo, doppio flash, quindi loro, la famiglia, la grana, c'era tutto un verso, ma più in grado, io ho tolto, un punto di 교vete, che c'era qualcosa che mi devo dare, un giorno, non so, la cosa, perché il libro, il protagonista, che è un film del dottore, che era professore, era che era malato, era malato, era, una presione, um violento, perché aveva fatto finire, è quasi storica che questa malattia dà la stabilità di crimine, quindi era secondo me una sensibilizzazione all'altro. Quindi tutti noi pubblici eravamo, come definisci, di aver detto una coppa che mi confide, però a noi non c'è, non ci accade, io non sono l'altro, io non l'altro. Questa è una cosa che ho spiegato a quella, e quindi secondo me è il più irritante, perché come, vabbè, se ne ho 4.14 anni, buono, più in genere, più in grado, ma non ci vedremo, non ho il fuoco, non sono così, per un motivo che non riesco neanche a dire cosa che fai con la stessa. Non è necessario che sia volontario con la stessa. Ecco, questo è tutto, è quello che subito la parola, perché questo cambiamento è un fenomeno molto importante, pure si infedeva lo spirito del libro, però di fatto toglie l'elemento consolatorio, perché l'elemento che ti manda a casa invece non ti va a riuscire, non c'è, non c'era da niente, arriva a una casa. Ecco, a quel punto ti vedremo a che, nel farlo rispetto all'allunito, c'è l'orlegramico, la serie di glicie, la serie di glicie? Guarda, noi, a prendere quelli che è stato complesso, la posizione perché c'era una, veniva venduto con un stock, senza scrivere, è stata parte di Rolanna, è stata parte della notizia che aveva fatto un intervento per gli Stati Uniti, cioè lo volevo comprare in tutti i paesi, l'importante è che sia parte dell'involuzionale, io in ultima stavo ridurando tutto, un parecchio parte del mondo dell'Italia e della Francia, però sempre dell'involuzionale di questo posto, non può essere bloccato nella regione del paese, anche per questo dove parlano tutti, cioè c'era un interso deletto, e no, non ho fatto la spazio, 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 non ho fatto la spazio anche per questo che io, che mi concedo, non ho fatto i rapporti dei fratelli, io mi sconavo te, i cugini del libro erano due maschi, io preferito cambiare ho un tasto con un ragazzo, ma non una ragazza, e mi servevo di rapporto con il padre che diventava più forte, diventava più forte, ma ho un po' più volento da una ragazza, perché qualcuno immagino sempre il ragazzo, in realtà nel 78, prima che inizia a scrivere dal petto d'Internet al patio, un aggressore, un uccidio, un bambino, un ragazzo di 12 anni, un banale di uccidio, insomma, è diventavano fuori, grazie grazie